Ciao a tutti, oggi prepareremo il brownie al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono cioccolato extra fondente, farina di tipo doppio zero, cacao amaro, lievito per dolci vanigliato, sale, nocciole, zucchero, burro, uova e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 15 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro e lo facciamo sciogliere per 4 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungere lo zucchero, le uova ed azioniamo il bimbi. per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, il cacao amaro, un pizzico di sale, la vanillina e il lievito. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungere le nocciole ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità 3. Il composto è pronto. Versare in una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di porzionarlo. Brownies al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!